Allora adesso tramite il discord, ah che ne so, pensavo che vorresti raccontarlo anche tu Tramite il discord, nella sezione talk con la chat, io vi sposterò uno ad uno e voi mi racconterete le vostre figure di merda Ovviamente parto prima io con una mia figura di merda, ne ho tante ovviamente, eeeh, è una tonnellata Vediamo un po' C'è una in realtà che è molto sedge, però me la tengo per dopo Figure di merda divertenti, mamma mia, sono talmente tante, ce l'ho tutte sparate in testa Bah, vi racconto questa che non è sedge, però è un po' così, praticamente ero in terza media Credo fosse la terza media, stavo correndo nella palestra, questa l'avevo già raccontata, però magari qualcuno non se la ricorda Stavo correndo in palestra, stavo facendo acchiapparella, mi correvano dietro E nella palestra, come tutte le palestre, non so, italiane probabilmente, c'è la cazzo di rete della palla a volo di merda Abbassata Mi stava ricorrendo un mio amico, eeeh, io mi sono girato per vedere dove fosse E nel momento in cui mi sono girato mi sono dimenticato che davanti a me c'era la rete della palla a volo Quando mi sono girato me la so trovato davanti, mi ricordo che ho sbattuto e so svenuto Mi sono risvegliato in mezzo a tutti quanti i compagni e il professore che mi guardavano così E io ero... ero svenuto E mi ricordo che tutti quanti mi prendevano per il culo e c'avevo praticamente il segno della rete qua Perché ero... c'avevo l'acne e c'avevo delle bolle qua E l'avevo colpito talmente forte che la rete mi aveva lasciato il segno qua Tutto... c'erano tipo... aveva preso delle bolle E c'erano tutti gli amici miei che mi hanno preso per il culo per mesi e mesi per questa cosa E io mi vergognavo troppo perché... tipo... vabbè Non è una bella figura da fare davanti alle ragazze Prendere la rete e svenire così Ho rischiato di morire in realtà Cioè avrei potuto sbattere il cervelletto e morirci Però... per fortuna sono sopravvissuto O forse tutto questo qui è frutto della mia immaginazione Mentre io sono in coma sul letto d'ospedale? Sì è stato un po' greve però in realtà l'ho presa a sorridere Ed l'ho presa come una figura di merda davanti alle ragazze che erano in palestra E stavano facendo palla a volo Grazie Franci, grazie per i tre mesi Tipo Doraemon, esatto, tipo la cosa dei fan di Doraemon Vai! Vediamo il primo Credo fosse entrato Trashume Ciao caro, come stai? Non ti sento, sei mutato Eccolo Eccolo, dai, come va? Come va? Tutto a posto Tutto a posto, tutto a posto Senti, io avevo qualche storia da raccontare Ma ne ho scelta una in particolare che era molto divertente Vai! Ed è il mio compleanno al locale che frequentavo praticamente tutti i giorni Tutti L'ultima volta c'era uno della chat che aveva raccontato una storia simile Ok Che aveva scambiato un suo amico per un'altra persona Sì, ha fatto un colletto, sì A me è successo con un'amica mia Ero beatamente a farmi una birra davanti all'entrata Dopo svariate tazze A un certo punto Arriva questa ragazza Entrando Io l'avevo scambiata totalmente per l'amica mia E le tiro Una manata in pieno viso Coprendole tutta la faccia E la spingo di forza fuori dal locale Comunque c'aveva un sacco di confidenza con questa amica mia Tolgo la mano Era totalmente un'altra persona Che non avevo mai visto in vita mia E mi fa Come cazzo ti permetti? E io le dico Scusami, scusami Non volevo Non volevo assolutamente Guarda, il mio compleanno Ti offro da bere Ti do quello che ti pare Non ti preoccupare Vai al bancone Di quello che vuoi E lei Va bene, va bene Se n'è andata Pensavo fosse finita lì Intanto mentre se ne andava Continuava a chiedere scusa A un certo punto Finisce la La figura di merda Arriva il suo ragazzo Con lei dietro Io Che cazzo Quello stava incazzato nero E fa Come cazzo ti permetti Pezzo di merda Io ti apro il culo Si leva il giubbotto Lo butta a terra Inizia a sclerare come un pazzo E alla fine avete fatto sesso in tre? No, 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 no Ah, ok No, no, vai Bad ending No, no, no Aspè Praticamente lui fa Ti spacco la faccia Non ti permette mai più A toccare la mia ragazza Pezzo di merda Vabbè Io continuo a dire Scusa, scusa Il mio compleanno L'ho scambiata per un'altra persona Sto ubriaco Non volevo Non volevo A un certo punto A un certo punto Questo mi sta per venire addosso Si Ti ferma di colpo Ti ferma di colpo Ti riprende il giubbotto Se lo rimette addosso E fa No, va bene Per questa volta A posto così Prende e se ne va Mi giro Dietro di me C'erano tipo 20-30 amici di me A braccia concerti E poi tutti metallari Il più Quello vestito meglio Ma i metallari I metallari In realtà Tu sei metallaro? Si Ok Ma non so Di solito No, ma non so cattivi Non so cattivi Perché fanno brutto Fanno brutto Capito? Si, però So meno Io I metallari Quelli proprio Io Sono stato metallaro E ho bazzicato Tra i metallari I metallari Prende sono i coatti Dall'altra sponda Almeno dal mio punto di vista Cioè C'erano gli estremi C'erano i Tu quanti anni c'hai? 29 Ok Vabbè c'era l'età mia C'erano Dall'altra parte C'erano i truzzi Che erano i coatti Veri E dall'altra c'erano i metallari Che erano l'altro estremo Poi c'erano i dark Si che poi partivano sempre i truzzi A rompere i coglioni Noi sempre tranquilli A farci il birro Nelle mie zone C'erano le faide Si Vabbè insomma Stai vedi scusa Don te rotto? Eh praticamente Ci stavano Tutti questi Energumeni Dietro a me Quello è scappato Dopo che ha visto che C'erano 20 30 metallari Tutti ubriati Grazie a me Che era il mio compleanno E io non me ne ero accorto Quindi ho detto Che cazzo avrò fatto? Avrò avuto un'aurea Potentissima Mi sono girato E c'erano tutti questi Bruttissimi Incazzatissimi Buon 2007 Esatto Sì sì esatto Esatto Buon 2007 Va bene Vabbè Stava un piacere Grazie caro Anche per me Dai è bella Ciao 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 bello Ciao ciao Aspetta che ti sposto E allora Figure di merda Io cerco di raccontarne uno O tra Tra Un ragazzo E un altro Figure di merda Figure di merda Oddio Infatti che so Talmente tanti So talmente tanti Che non me le ricordo Riga Dove posso comprare Dove posso comprare La filpa Roare Da Da Zara Bene mentre che ci penso Mi mando un altro Perché non mi va a spostare Perché non mi va a spostare Ma hai spostato Come ti ho spostato Ciao Tomasac Sei tu Sì Perché non te vedo Perché non so Però mi senti no Ora sì Ora ti ha fatto Ti ho spostato Va bene Bene Tomasac Come stai Bello Buonasera Tutto a posto Tutto a posto Intanto saluto Trashume Perché è di Teramo Come me Ho scoperto Madonna Cioè Teramani Teramani Terenas Vai Allora Capodanno 2019 Tokyo Con Saidonia Qua abbraccio Un attimo Il meme di Dario Perché mi fa morire Ridere Cioè Pregi in chat Per Saidonia Pacell'anima sua Ovvero Vabbè 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 è morto È morto Se no Non farti troppe domande Magari a parli con Dario Va bene Praticamente Capodanno Il 31 dicembre Siamo andati a mangiare Yakiniku Sarebbe comunque Quando ti Sei mai visto Anche negli anime Quando cucinano la carne Col tavolo Con la griglia C'è la griglia Là davanti E ti cucinano la carne Era all you can drink Mi era tutto pagato Non so se Te l'ha mai detto Dario Comunque lo sapevi Che la birra in Giappone È praticamente Acqua gialla È anacquata Quindi Non ti fa un cazzo Ok Ho cominciato a bere Come uno schifoso E per sentirmi Un po' brillo Mi sono fatto una cosa Come una decina Di 0,3 Ma in realtà Ma da quello che so La birra in Giappone È buona Cioè Stanno messi bene A livelli di birra O no Ma da quello che ho provato io No Poi magari ho provato Le birre sbagliate Però Ma hai più di stronghini E ste cagate qua Che Ti ammazzano E vabbè Finita la cena Siamo andati Al karaoke Per festeggiare Appunto Capodanno Dove io mi sono Scatenato Perché Lì era ancora Olio can drink Quindi mi sono fatto Altre birre E ho cantato Con Cydonia Tipo Ok Paper 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 In Game Park E Biob Biob The System Of Down Penso che tu conosca Un altro Mellaro De Terra Incredibile Sì più o meno Quella secondo me È già una figura di merda Perché ho strillato come un pazzo C'ho anche dei video Che ogni volta che guardo Cringio tantissimo Infatti ho chiesto anche scusa A tutti quanti Perché eravamo tutti Era una stanza intera Con una quarantina di ragazzi italiani Tra cui c'erano anche Raiden e Midna Perché c'erano anche Player Inside È stata Ma abbastanza Imbarazzante però Mi sono divertito Poi che è successo C'erano altri ragazzi Che non hanno frequentato Cioè non sono venuti Con la cena con noi Erano di Livorno E di Pisa Sono arrivati E ci hanno fatto Deo boia Andiamo a baccagliare Due figlie giapponesi Un po' come fanno loro Sì sì Siamo andati Abbiamo preso Siamo andati Su sto locale Che facevo All you can drink Però stavolta Siamo andati Un po' di super alcolici Il problema È stato proprio questo Perché ho cominciato A mischiare Tutte le birre Anacquate di prima Con i super alcolici Tra l'altro Ho insistito Per un rum e cola Ma a quando pare Non mi capivano Quindi ho dovuto Per forza Prendere G-Levon Perché era l'unica cosa Che capivano G-Levon È finita Che io Da quel momento in poi Non ricordo niente Ricordo solo Che mi sono svegliato In camera Con il mio compagno Di stanza E E io stavo ubriaco Perso Mi sono svegliato Alle 8 di mattina E ovviamente Mi sono cominciato A sentire un po' strano E Quindi vado in bagno Vado in bagno E È cominciato una combo Di Farà anche un po' schifo Di Di vomito E di arrea Insieme Alternavo Mi sono sentito Sono stato malissimo E Vabbè Magari farà schifo Pure a qualcuno Sa cosa la dico Però Tu hai visto il bagno Giapponese Che c'ha Dario Sì c'ha Tutta la roba Quindi sai come funziona Sì 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 Praticamente Ovviamente Quando tu usi lo spruzzino L'acqua la prende dal cesso Non è che esce l'acqua Da qualche altra parte Ti hai spruzzato La merda addosso Sì Talmente ubriaco Che io non ci ho pensato A sta cosa E il bello è che io Me ne sono reso conto Qualche mese dopo Quando Mi hanno chiesto Ma l'ho comandata Capodanno E io raccontando sta cosa Ho detto Ma io mi sono spruzzato La merda addosso Non so come Cioè Non so come non abbia preso Qualche malattia Però Sono ancora qua Ho capito La figura di merda Arriva qua Perché io E questo è proprio Deteralmente Sì Esatto Stavo talmente tanto male Che io Intanto sono rimasto Chiuso in bagno Dormivo dentro al cesso Alternavo Mi svegliavo Rivomitavo Risdiarreavo Mi svegliavo Fino a Alle 4 di pomeriggio Più o meno Alle 8 di mattina Ok Succede che Verso le 10 Arriva Il tizio Per pulire La stanza Quello che fa Le pulizioni La stanza E io Dicevo Il mio compagno In stanza Non lo fai entrare Perché io Cioè Che cazzo pulisce Che io sto dentro Al bagno Nudo Svenuto Sul cesso Che cazzo Entra Cioè È inutile Però Non glielo riusciva A far capire Lui faceva Clean 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 E quelli diceva No Lascia perde Non puli oggi Lascia perde E io Di là Che speravo Dicevo Vabbè Anche il giapponese A un certo punto Si farà i cazzi suoi Comunque Loro sono un po' così Sì Che succede Che Probabilmente Io stavo Perché io stavo Mezzo svenuto C'ho dei flash Che mi ricordo La porta del bagno Sta vicino All'entrata Della stanza Sto tizio Non so perché Apre la porta E mi vede Completamente nudo Mezzo svenuto Sul cesso Con un odore Penso non sia Molto Che non fosse Molto gradevole Mi vede Qui già fa Tipo Sumino a sé Sumino a sé Mi chiedeva scusa Io Stavo Mezzo svenuto Lo guardavo Dicevo Che cazzo vai E niente Ma ho visto Un tizio giapponese In mezzo Al Al vomito Tutto nudo Sdraiato sul cesso Sembrava una Di quelle storie Che raccontava Dario Ma com'è quando Si va in Giappone Si finisce sempre così Beh probabilmente Non lo so È un rito Dei turisti Che vanno in Giappone Italiani Sì ma Vabbè Io sono Bestemmiato Non so perché Cioè Il periodo in cui Sto in Giappone Dieci giorni Penso sia stato il periodo In cui ho bestemmiato Di più in tutta la mia vita Non so perché Mi veniva proprio spontaneo Sparare le madonne In faccia Perché non te capiva nessuno Sì Tranne un tizio giapponese Che ha giocato Calcio a 5 in Serie A Mi diceva Non bestemmiare Dicevamo come non bestemmi Che cazzo vuoi Ma come calcio a 5 in Serie A Eh abbiamo giocato A calcetto Su un grattacielo C'era sto ragazzo Che conoscevano Francesco e Chiara E io Mentre gioco a calcetto Bestemmio Non ce la faccio Non bestemmiare Sinceravello Io non so come sia possibile Era nagatomo No ma che cazzetto Regà Che i suge si chiamava Che i suge qualcosa Non so Ok Va bene Quindi era questa La mia figura di merda Va bene Letteralmente Va bene Ti ringrazio Bella Grazie a te Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie Blick Grazie per i 5 sub Oh grazie caro Ma si era impallato tutto Comunque regà Mi si era impallato il discord Mi si era impallato La chat Tutto Si sono impallati i tuoi computer Insieme Non so perché Mi è arrivato tutto insieme Ecco perché non riusci Non lo vedevo Allora la mia figura di merda Io ci stavo pensando Mentre lui parlava Ma non mi vengono E ne ho fatte tante Di figure di merda Per esempio Mi ricordo Che c'era questa ragazza Che mi piaceva al liceo Che non conoscevo Era di un'altra classe E mi piaceva tantissimo Io ero in una classe Che non Non amavo Particolarmente E c'erano i compagni miei Che mi cagavano Perennemente il cazzo Mi prendevano per il culo E mi rompevano i coglioni L'avessi mai fatto Gli ho detto Che c'era quella tipa Che mi piaceva Ma non ho cominciato A spingere Verso di lei Dicevano Dai dai Diggielo Diggielo Io dico Che cazzo Gli devo di Diggielo Diggielo Che ti piace Ma non funziona così E mi continuavano A spingere tutti insieme Verso di lei E lei mi guardava Diceva Boh Io alla fine Sono rimasto là Loro si sono allontanati Io sono rimasto Fermo così In mezzo così Davanti a lei E non gli ho detto niente Non ho parlato Agli anni 80 Non erano gli anni 80 Erano i primi anni 2000 No non mi sono appicciato addosso Soltanto che sono rimasto là In mezzo Con tutto E loro che avevano fatto Bordello Quindi se non Oggi Erei di tutti Questa è stata Una figura di merda Tra l'altro Non volontaria Mia Involontaria Sì vabbè Amici Insomma Erano compagni di classe Ma secondo voi I compagni di classe Sono tutti amici Avete I vostri ex compagni di classe Sono tutti i vostri amici Spostiamo il prossimo Va Ciao Landi Ecco Mi aspetta che muto la live Vai vai Come va Tutto bene Vai vai Tutto bene Tutto bene Vai tutto tuo Allora Io vabbè A parte la settimana scorsa Che ho raccontato Del ballo coreano Oggi ne ho una Abbastanza recente Sì All'università Lezione dopo pranzo Da ricordarsi Dopo pranzo E Niente Era una lezione Abbastanza noiosa E Quindi quando Io ho una lezione Noiosa in università Il mio cervello Inizia a viaggiare E mi dissocio Totalmente Da quello che sta accadendo Intorno Ok E niente Fantastico 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 E Ricollego il cervello Però caccio Penso Il rutto Più potente Che abbia mai fatto In mezzo alla classe Di 100 persone Ma perché? Perché mi era venuto Da ruttare Ero dissociato Totalmente Con la testa E ho ruttato Intanto dissociato Da non renderti conto Che sei una classe Con 100 persone Boia E niente Ricollego Tipo gli ebenci Quando ci hanno Quei pensieri Durante la partita Ricollego il cervello Immediatamente C'è la platea Ero seduto Abbastanza in fondo C'era la platea Tutta muta Verso di me Il mio compagno Di studi Di fianco Che cercava Di trattenere La risata Avvolgendosi La faccia Nelle braccia E in lontananza Sento Nel silenzio Un collega In fondo Che fa tipo Si gira verso di me E fa tipo Il tizio Dei video Della zerba C'è una fa Supa Col pollicione Proprio E nel mentre Mi accorgo Che la prof Mi guarda Da lontano E ti tira un urlo Ancora più Un contro No 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 Mi fissa negli occhi Per 5 secondi Io in questi 5 secondi Sono riuscito a dire Scusi Tocca Scusi Tocca E niente Era completamente Rincoglionito E E lei Completamente In silenzio Cala la testa E ricomincia a spiegare Secondo me il tocco È peggio del ruto Lo posso dire Può essere Però È successo Però era Era quando era ancora Meme il tocca Quindi È successo Allora Contestualizzatissimo E quindi Quindi Ricomincia a spiegare Io mi chiedo ancora Come mai non abbia ancora Passato questo esame Però Ho capito Va bene E niente E questo è stato Va bene Buona continuazione Bella bella Lanti Ringrazio Ciao 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 Io invece Mi è venuto in mente Che andavo all'elementari E c'era Io All'elementari Non riuscivo A A stare in piedi Più di 5 minuti 10 minuti Mi veniva da vomitare Spam Non riuscivo a rimanere In piedi Praticamente C'era il coro Non so se voi Avete mai fatto il coro Praticamente Ti facevano Cantare Ti facevano fare Per un tot E cercavano Il professore Cercava di capire Chi stonava E lo rimandava In classe A me Mi rimandarono In classe Ma non perché Non Avevo stonato Ma perché Stonato Perché avevo Cantato male Ma perché Non mandava a me De fare il coro Io non lo volevo Fare il coro Di merda Mi rimandarono In classe E in classe Si cantava uguale Non so perché La professore La maestra Ci faceva cantare Anche in classe Solo che Per cantare Ti dovevi mettere Davanti alla lavagna In piedi Con sto cazzo De foglio Dove c'era il testo Della canzone Ma non ricordo Che canzone c'era Dopo 5 minuti Che sono stato in piedi Ho cominciato a vomitare Cioè proprio Mi 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 miscevo al vomito E me lo tenevo così Ho cominciato a sbrattare Tutti i pezzi di vomito Sui fogli Per terra Addosso alla gente S'ho corso al bagno Col vomito Che mi colava dalla bocca E ho vomitato dappertutto Meno che dentro Il lavandino del bagno Ho sbrattato Pertutto E c'erano ovviamente Sempre le ragazze Che mi piacevano Che mi avevano visto In questa scena In cui sbrattavo Fortissimo E per me è stata Una figura Di merda Colossale Che mi ha fatto perdere Tanti punti Ho capito che state mangiando Vai È una figura di merda Non mangiavo Zabbaione Grazie Icebox Grazie per gli undici mesi Il prossimo Bella Neomercus Ciao Dada Ciao Come stai? Un secondo minuto della live Vai vai Allora Fatto fatto Bene Dimmi tutto Una figura di merda Allora Me ne è venuta in mente Una Un po' vecchiotta Di quando ero ragazzetto C'avevo 16 anni Sì E stavo con Una Cioè una ragazza Della Diciamo Un po' più Benestante di me E la portai a una Festa di una Di una mia amica Che vuol dire Benestante Più di te? Io vivo in periferia In un posto Molto merdoso Della Della città di Bari Sì Vivei in Perfetto centro Figlia di Iconi sfondati Ok Quindi appunto Una persona che frequenta Degli ambienti un po' più Alto locati Del giovane me Sì E te la portai a questa festa Che in realtà non era proprio Di una mia amica Ma della cugina Di una mia amica Quindi Un po' più di bello Pecoreccio Lei sostanzialmente Inizia a bere A sfottire Insieme a me E ci allontaniamo Nel giardino Di questo Di questo posto E iniziamo a Pomiciare Durissimo Bene Siccome eravamo Probabilmente Spariti per Ore Ore no Forse Una mezz'oretta abbondante Ci sono venuti a cercare Ok E niente Io Ma a un certo punto La stavo baciando Mi giro E mi trovo Questa platea Di miei amici Che mi fissano Da Non si sa quanto Noi Completamente Distrutti I genitori Della Della mia amica E tutti i loro familiari Mi hanno guardato male Per Probabilmente I miei amici E chi è scusa? Beh era un Ci faceva 16 anni Questa ragazzina E tu quanti ce ne avevi? 18 E qual è il problema? Beh è stata una figura di merda Me ne imbarazzo tantissimo ancora Boh Secondo me Secondo me Non dovrebbe esserlo Cioè tranquillo 16 anni 18 anni Che cazzo Due anni differenze Non è che quando fai Fai 18 anni Stai con una ragazza 17-16 Basta Un po' più fa niente Il problema è stato Ubriacarsi a merda Completamente Incapaci di intendere Il volere Capaci solo A baciarsi Scusami un attimo Ti sei cacato addosso? No 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 Hai vomitato? No No E allora Non è una figura di merda Quindi deve essere per forza Cacarsi addosso No 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 Era una battuta Perché Vengono messi tutti così Quelli che stiamo raccontando Vabbè Comunque ok Ci sta Dai ci sta Ne avrei una Dove No no tranquillo Stanno mangiando Stanno mangiando Andiamo su Su cose più pulite Va bene Va bene Va bene Ok Va bene Allora La raccontiamo Tra le figure di merda Stranno però Perché forse erano Va bene Grazie Neomercus Comunque Non ti preoccupare Vabbè Andava E rientrava E rientrava Per raccontare Ragazzi Poi è uscito così E' stato sbagliato Non lo so Per raccontare Ragazzi C'è la pagina Sì la pagina Il canale Su Discord Ci sono già Gli altri ragazzi Si chiama Talk con la Cia C'è sta Talk con la Che non si legge Intero Il prossimo Che era entrato Credo sia lui No ti vuoi raccontare Io Che sta Ve l'avevo raccontata La riciclo Perché la voglio Riraccontare Un po' Un po' Meglio C'era questa ragazza Che avevo conosciuto Tanto tempo fa In chat Non qua Vabbè Su una chat Chat.it Questa ragazza Era una ragazza Molto carina Romana De Roma Proprio totale Romanissima Proprio romanissima Romanista E Un mio amico Che conoscevo sempre Tramite chat Su Messenger Se l'è scopata Era nei tempi In cui Avevo questi amici Che Erano molto Intraprendenti E E agivano così Però questa ragazza Era molto simpatica In realtà Secondo me Secondo me Anche se io ero Un po' Coglioncello E non capivo Gli piacevo pure io Però io non ero Abbastanza Intraprendente Non ero abbastanza Sare scopata Comunque è brutto Dati Scusate Non volevo Grazie bangers Grazie benvenuto Caro Non era Dati E Non era abbastanza Intraprendente Quindi me la sono Lasciata scappare Però in realtà Penso gli piacessi già A distanza di tanto tempo Credo forse 4-5 anni Non so perché Eri poppata Eri ricicciata Non su quella chat Ma Tramite collegamenti Strani Con quel ragazzo Che ci 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 era uscita E ci era andato a letto Insomma Ha chiesto di me Ha detto Ma Diego Come io me lo ricordo Diego Che fine ha fatto E niente Questo memico Mi ha ricontattato Mi ha detto Oh c'è sta Si chiamava Alessia Incredibile Si chiamava Alessia E niente Mi misero perché Su un messenger Si potevano fare Incredibilmente Le chat insieme A 3 A 4 E mi invitò in chat E ci parlai Insomma Tra una cosa e l'altra Mi ci sono risentito Assituamente E ci sono uscito Solo che questa qui Abitava dall'altra parte di Roma Io ho appena preso la patente Per esempio C'avevo 19 anni Quindi sono andato Sono andato con la macchina Di mio padre Che era una lancia delta Gigantesca Di quelle vecchie Grosse Col culo enorme Diesel 2000 turbo diesel Fino Sulla Cassia Dopo Tipo Due giorni Che avevo preso la patente Mi sono fatto il raccordo Mi cacavo addosso Ho rischiato la morte Più volte Sono arrivato là Me la so caricata in macchina E devo dire Che non era la ragazza Delle foto Era il periodo In cui Quando tu Rimorchiavi Tramite chat Ti ritrovavi Delle persone Sia maschi Che ragazze Certamente Parlo per la mia parte Che non erano Le persone Che si mostravano In foto Tramite i primi Mezzucci Ovvero Farsi la foto Dall'alto Farsi la foto Solo del viso Uscivano fuori Dei dettagli Che erano diversi Dalla realtà Dei fatti E lei Comunque era diversa Da come si mostrava In foto Questa cosa L'hanno fatta tutti Non era un catfish Non era un catfish Era lei Ma questa cosa L'hanno fatta tutti Tra l'altro Mi mandava foto Di quando era piccola Più giovane Di quando io L'avevo conosciuta La prima volta Ed era Ovviamente Diversa Da come era Realmente in quel momento Era una ragazza diversa Diciamo che era Un po' ingrassata Un po' ingrassata Ed era diversa Però vabbè Non era un problema Ci sono uscito Ci siamo baciati Solo che io Sono andato fino Sulla Cassia Ho parcheggiato Vicino Un po' al Tevere E ho aperto L'aria condizionata E la radio Della macchina Di mio padre Siamo stati Un po' lì A pomiciare E la macchina Non si è più accesa La batteria La batteria Probabilmente La seconda volta La seconda volta Che prendevo la macchina Ero totalmente Terrorizzato E ci siamo messi A spingere la macchina In quattro Con mio cugino Mi padre Sta ragazza E io È stata una scena Un po' paradossale Calcolare Sono rimasto Talmente traumatizzato Che Io ho detto Guarda Non credo Di riuscire A sostenere Un rapporto A distanza In questo momento E quindi Niente La cosa È saltata subito Dopo il primo appuntamento E Non l'ho più rivista Lei ha detto Ok va bene Subito Ha detto subito Ok va bene È una bella figura De merda Il prossimo Ciao Giovanni Perché non ti sento Perché si illumina Non ti sento È mutato Giovanni Ti si illumina Il microfono Ma non ti sento Prova A cambiare Il microfono Tra le impostazioni Guarda Ti sposto Sotto Se riesci a risolvere Ti sposto Su C'hai la precedenza Ciao sub Mi senti Data Ti sento Ti sento Ciao sub Aspetta che chiudo Ti senti Sì ti sento Sì ti sento Sento anche l'ego Sento anche l'ego però Eh aspetto Ma da dove stai parlando Da un'aula Magna Dal mio bunker Ma chi è Mi senti Sì ti sento Vai raccontaci Tutto fatto Io ho fatto L'animatore Per tanti anni Che belli Gli animatori Quanto li odio Dimmi E allora Allora io sono pugliese Però vivo a Roma Ok Allora il mio primo anno Di animazione Un giorno Mi hanno messo A fare Il venditore Di biglietti Della lotteria In piscina A 40 gradi Con il vestito Di Robin Hood Beh Ad un certo punto Arriva Arriva un signore E io Vado lì E comincio Ad accollarmi Che volevo vendere Questi biglietti Della lotteria E questo non mi parlava Non mi diceva niente E ad un certo punto Ho cominciato a rincorrere Per tutta la piscina Ho detto Oh ma che Ti hanno tolto la voce E questo ad un certo punto Si gira E in pratica Era sordo muto Mi fa capire Che non riusciva Non poteva né parlare Né sentire Vabbè Vabbè Si sa come figura di merda Effettivamente Però non l'avrà capito Perché non ti poteva sentire Giustamente Giusto? Eh ma Diciamo Penso che lui L'abbia capito Ah Ok Allora Perché io Ad un certo punto Gli ho fatto proprio Ma che hai perso la voce Gli ho fatto pure il gesto Con la mano Capito? Quindi niente vomito Niente merda? Non hai vomitato addosso Se vuoi No 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 Va bene Va bene Va bene Grazie Se vuoi te ne racconto altre Il mondo dell'animazione Ne è raccontata Ne può Vai raccontare un altro Vai c'hai i jolly per un altro Perfetto Allora Un altro anno Quando poi sono Mi Sono avanzato di grado Sono diventato anche Capo animazione Perché Scusa ci sono dei rank C'è un ranking No non c'è un ranking Però Con l'esperienza Puoi Salire di grado Puoi arrivare Fino a diventare Un capo animazione Animatore caporale Capo animazione Che fa il capo animazione? Il capo animazione È un responsabile Organizza tutti i giochi Tutte le attività E compresi Gli spettacoli Che spettacolo E tu sei mai diventato Un capo? Sì Sono stato Un anno E poi basta E non ho fatto più Perché E sei rotto il cazzo No no Ne ho combinate tante Non ero proprio tagliato Per fare Vabbè Fatto che stavo presentando Una serata E all'inizio della serata Dovevo dare tipo Delle premiazioni Ai vincitori Dei tornei Sì A un certo punto Chiamo questo bambino Sul palco Che aveva vinto Non so che cazzo Aveva vinto Fatto sta che Dico Non c'erano le scale Per salire Né per scendere All'inizio Lui sale Non so come Sale sul palco Alla fine poi Dico Gli faccio la prima azione Dico Vabbè dai Un applauso A Francesco Blah 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 Se vuoi scendere Salta giù E lui salta Cade Si fa malissimo A un certo punto Il pubblico Si alza Tutto terrorizzato Io faccio una figura Di merda Davanti a duemila persone La mamma Che mi guarda Con il pollice in giù Tutta terrorizzata È Giulio Cesare Sì sì Mi è rimasta impressa Questa scena Perché lei si alza Preoccupata Però Mentre mi guarda Fa con il pollice in giù Tipo Sei morto Tipo adesso Per te Arriveranno le tigre Ti sbranano Cazzo Come si chiama Il gesto Di quello del wrestling Dio Che faceva sempre così Vabbè sicuramente In chat Ce ne stanno tanti Che lo conoscono Comunque Il bambino Sembrava morto Però poi Vabbè Abbastanza È un Un falso mito Quello che gli animatori Drombano tanto Vabbè A valesia per i ragazzi O meglio Per i ragazzi Giusto? Sì Animator 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 Ok Vabbè Però hai detto abbastanza Non è un falso mito Allora È vero No no Ma è come nella vita Se ci sai fare Se ti sai Rapportare bene Con Con altre persone Se non sei Una personalità Chiusa Che tende a stare Ad evitare I rapporti sociali Però il fatto è che Se sei animatore Di base Devi essere già aperto Quindi Ti Facilita tanto Esatto Se fossi Come dici tu Non faresti l'animatore No? Quindi per quello si No è che È che la maglia Dell'animazione Ti dà una sorta Sì ma non suonato È la mamma Del bambino Che stava sentendo la live Va bene Dai dai Grazie Buona serata Grazie Ciao 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 Allora il prossimo Dovrebbe essere Lui No Vi devo raccontare io Figure di merda Io in realtà Tutte le figure Di merda Più grosse L'ho raccontata L'altra volta Ed erano comprese Nelle cose Di cui Divergognate Che era sbagliato In realtà Perché io Ho raccontato Le mie figure Di merda L'altra volta Più che le cose Di cui Divergognarsi Che sono due cose Diverse Vabbè il prossimo Vai Ciao Yanni Mi senti? Sì Ti sento Dai Come va? Bene bene Tutto bene Vai tutto tuo Allora io ho tre storie Ma ne racconterò Solo una stasera Va bene Ti dico i titoli E tu ne scegli una Vai Allora Non pensavo suonasse Ok Poi La tazza dei vicini Ok E i bagni irlandesi Fanno schifo Vai chat Quale volete sentire? I bagni irlandesi La Non pensavo suonasse Quindi musica Giusto? No Non spoiler però Ok La prima Non pensavo suonasse Dicono tutti Vedo Ok Allora Vai Ero piccolo Avevo tipo Cioè facevo la prima elementare Ah Mazzata che ricordo Che c'hai Sì 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 Perché Mi ha traumatizzato Vabbè Ero da mio cugino C'era anche mia zia E siamo andati a fare La spesa All'Eurospin E mio cugino Mi fa Dai prendi il ciuppa ciuppa E prenditelo E portiamolo senza pagarlo E io gli faccio No no vabbè Non lo facciamo Ah sì vai 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 Allora io l'ho preso Però solo io Lui no Allora una volta arrivati La cassa Passo tranquillo E suona di brutto L'allarme Per i taccheggi E mia zia Essendo anche Meri di Rai Calabrese Inizia a mettersi le mani Dei capelli A dire No Perché l'hai fatto Lo dovevi dire Te lo compravo E tutto così E poi boh Non è successo Nient'altro Sono riuscito A cavar Vabbè ma Dai Nel senso Secondo me Figure di merda Da bambino Vabbè a parte Quando vomiti E te caghi addosso Ci stanno No vabbè Sì questa ci stava Però Infatti era la più leggera Mi ha fatto venire in mente Figure di merda A cui ho assistito In realtà Perché magari Non ce l'ho io Ma ne ho assistito E ho assistito A delle figure di merda Di taccheggi? No no Più pesanti Vabbè dopo Dopo ne racconto una Va bene Allora grazie Grazie Dada Grazie a te Ciao caro Ciao ciao Io ho assistito A tantissime figure di merda Oltre ad averne avute Quelle che Che ho Ho fatto io Però non mi ricordo Non me ne Vabbè non riesco a parlare italiano Quelle che sono successe a me Non me le ricordo tutte Ma mi ricordo Tante figure di merda Da cui ho assistito E c'era quel ragazzo là Di cui vi raccontai l'altra volta Che aveva tanti problemi Palesi Un giorno Eravamo in classe All'elementari E sentivamo Una Se state mangiando Mutate Sentivamo una Tutti quanti Una puzza di merda Furtissima Ma proprio forte Raga E tutti Si guardavamo intorno E facciamo Ma che è sta roba Ma che cazzo è E niente Alla fine Abbiamo scoperto Che sto ragazzo Si era caccato addosso E la maestra Che era A metà Tra il ridere E il Purtroppo La maestra Era Che stava venendo a ride E gli ha detto Simone Che si chiamava Simone Vai al bagno E pulisci Insomma Da quella volta Sto ragazzo È ritornato A scuola Col pannolino E purtroppo Io Già da bambino Avevo La sensazione Che avesse fatto Una figura di merda enorme Porello E C'era rimasto male Di queste cose qua Di Cagarsi addosso Che succedono spesso Ne conosco anche un'altra Di Un viaggio In In pulmino Verso Pompei Di un altro ragazzo Ma questa magari Ve la racconto Un'altra volta Il prossimo Bella Sì Dì Oh da da Eccomi Bella Ti sento Ti sento Come stai Bene bene tu Bene bene Vai Tutto tuo Io Ho una figura di merda Che però mi sono meritato Tantissimo Perché sono stato un po' stronzo E Va bene Quando Quando ero piccolo Avevo Una crush No Una Una di quelle ragazze Che A cui Non lo so Che ti piacciono tantissimo No Sì E Infatti C'era questa Che per me Era La ragazza Più bella Di tutte Una Una persona Che idealizzavo Tantissimo E Avevo conosciuto Questa ragazza In vacanza Quindi la vedevo Solo d'estate Però lei Non mi ricambiava Ovviamente Quindi non Non ho fatto nulla Con questa ragazza Non È Rimasta Sempre lontana Da Da me Non riuscivo A conquistarla Quindi Siamo rimasti amici E Negli anni Abbiamo costruito Comunque una bella amicizia E Una sera Ci dice A noi Al gruppo Dei 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 Ragazzi Che andavano sempre In vacanza lì Ci dice Guardate ragazzi Io dal prossimo anno Non posso più venire Perché I miei vogliono andare Altrove In vacanza E quindi Questa è l'ultima volta Che ci vediamo Va bene Quindi Con la mare in bocca Per non averle mai detto nulla Lei Lei va via E io non la rivedo più Per tantissimi anni E vabbè Io continuavo Ad andare in vacanza lì No? Sì Quando Piccolo timeskip Compio 16 anni Sì E Vado in vacanza lì E Ritrovo Lei No? Mi Mentre stavo Tornando a casa Per pranzare Lei mi vede E dice Ma chi è sto fregno? No? E io Ci rimango malissimo E ho detto Ma come? Vabbè La saluto Parliamo un po' Ci diciamo Sì Guarda Per un attimo S'ho messo paurissima Beh Cosa? No perché sto fregno Poteva stavo a pensare Un'altra parola Beh Ah ok No 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 che ne so Dimmi No 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 Mi dice Vabbè chiacchieriamo No? Perché ci ritroviamo Dopo qualche anno Poi l'ho detto Guarda io sto andando A pranzare Se tu ci sei Anche più tardi Ci vediamo E lei mi fa Sì sì ci sono Tanto sono appena arrivata Quindi abbiamo tempo Va bene Io vado a pranzare Mi arriva un messaggio Da un numero Che non conosco No? Era lei che mi diceva Guarda mi ha fatto piacere Rivederti Ho chiesto il tuo numero A uno degli altri ragazzi E ti trovo Comunque Un bel ragazzo Sei diventato un bel ragazzo E mi piacerebbe Che questi giorni Passassimo insieme Normalmente Non mi faccio avanti io Però siamo in vacanza E abbiamo poco tempo Quindi Mi piacerebbe passare Questi giorni insieme Perfetto Sta andando tutto bene E giustamente Vi chiederete Dov'è la merda E adesso arriva Ci organizziamo per uscire Usciamo insieme Sì E tutto sta andando benissimo Finché lei Non mi dice Ma scusa Quello cos'è? Indicando il mio Avambraccio Sull'avambraccio Avevo Il braccialetto Con il nome Dell'attuale Della mia ragazza Del tempo E sì Ero fidanzato Quindi lei Si incazza tantissimo Mi 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 sclera E Mi dice Sei un coglione Ma che cazzo fai? Eccetera Io ci vengo di merda E E mi lascia lì Perché ce l'avevo messo A noi lettori? Per l'effetto sorpresa Sei come la Rowling Vai Esagerato Di Di E niente Alla fine Vabbè Lei ha fatto benissimo Sono stato stronzissimo Non l'ho più rivista E anzi Durante quella vacanza Ha cominciato a uscire Con uno dei Dei miei amici E Vabbè Mi sono meritato tutto Perché sono stato veramente Un pezzo di merda Vabbè Bella figura di merda Ma scusate Potevi inventare una scusa? Potevi dire che era di Tua nonna Tua madre Sì però Giunti a quel momento Non me la sentivo Ho detto No Non posso Va bene Va bene Grazie caro Niente Ciao ciao Alla prossima Ciao ciao Sì Ciao Devo ringraziare Mike Wazowski Grazie per i tre mesi Importanti Tra l'altro Mike Wazowski Underscore X è importante Da ricordare Bella Tom Tapp Grazie per i dieci mesi A me in mente Me ne scordavo Non ti sei scordato Bravo Figure di merda Figure di merda Figure di merda Però A cui ho assistito Ce n'era una Che avevo in mente Me la sono appena Dimenticata Perché non me le Perché Ma io non mi Perché mi dimentico Le cose Dai il prossimo Ciao Pasco Mi senti Mi senti Mi senti Mi senti Ti sento Ti sento Ciao come stai Ok bene Bene Dai vai Ok ho tre figure di merda Abbastanza recenti Come l'altro Vai raccontane una Quella che bensi Sia più greve Va bene Ti dico la più recente Vai Allora Io vivo in provincia Di Salerno Allora ci organizziamo Con questi miei amici A scendere a Salerno Sì Eravamo un gruppo Di sei persone Tre ci danno buca E non vengono Ok Arriviamo Io e questo altro Mio amico Ci ritroviamo a Salerno C'era un altro Che mancava Ehm Andiamo tutto Facciamo tutto un giro Per andarlo a prendere Ehm Alla fermata del bus Ehm Mentre Stavamo arrivando Alla fermata del bus Erano I classici Vecchi no Che Corrono Sul lungomare Ehm Io imito uno di questi Che era mia Che mi era appena Passato a fianco Era un pelato Pompato proprio Ok Faccio la corsetta Per imitarlo Tutto a posto Andiamo a prendere Questo mio amico Alla fermata E ritorniamo Ci facciamo tutto Il lungomare a piedi A un certo punto Rivedo in lontananza Ehm Il pelato Che avevo Diciamo Imitato Si E piano piano Lo vedo accelerare Sempre di più Verso di me A un certo punto Mi prende Dalla felpa Mi alza Io in quel momento Ridevo Non so perché Mi ridevo in faccia Il mio amico Subito Vicino Al pelato No è un coglione Lasciatelo stare Lui aveva il pugno Alzato Verso la mia faccia E ridevo Continuamente Ma perché ridevi? Non chiedermi il motivo E alla fine Alla fine Alla fine Questo mi lascia Mi scaraventa Mi lancia A metri di distanza E se ne va Di nuovo Con l'altro vecchia Che cazzo Era Nappa Si era abbastanza Probabilmente ridevo Perché C'erano A cento metri I carabinieri Però Ma perché dovresti ridere Perché ci stanno i carabinieri Sono veramente un coglione Mi ha salvato Il mio amico Proprio mi ha salvato Insultandomi Ma ecco me Guarda Mi hai fatto ricordare Un aneddoto Di alcune persone Vai Grazie caro Grazie Pasco Bella Ciao 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 Praticamente C'erano questi due Miei amici Che Sono andati In un parco Gli Arbano Che per chi conoscesse Arbano È a Villa Doria E a Villa Doria Ai tempi ci stavano Medallari Truzzi E tutti quanti Praticamente C'erano loro Che stavano seduti Su una panchina I miei due amici Su una panchina A farsi i cazzi I cazzi loro E c'erano Sti due ragazzetti Su un'altra panchina Un po' più lontana Che li guardavano E ridevano Praticamente I miei due amici Si sono alzati Sono andati Sono andati lì A fargli brutto Per dire Che cazzo Li vedete Oh Questi sono stato alzati E l'hanno presi Cioè Gli hanno dato uno spintone Sono andati lì Per menargli Ai tempi Solo che Sono stati tutti A due scaraventari Nei cespugli Perché Praticamente Era fatta a discesa E loro sono stati Scaraventati Oltre i cespugli Giù per il prato E qui l'hanno fatto così E se ne sono andati E praticamente Nel fare queste azioni qua Gli sono rotte le magliette Io ovviamente L'ho beccati Con le magliette rotte Che giravano per il paese Ma che cazzo avete fatto E mi hanno raccontato Sta storia E mi hanno detto No Volevamo meno a questi qua Ma ci hanno A fine Ci hanno buttato giù Dal cespuglio Siamo rotolati giù Tutte le magliette rotte Che giravano per Albano Mi ha detto Ma perché gli avete Siete andati a mena Non avete mai fatto Queste cose Perché Perché ci stavano a ride Mi guardavano e ridevano Ma che cazzo vanno Mai fatta una roba del genere Ci hanno preso pure le botte Praticamente La figura del merda Incredibile Erano parti di pemenaglie E ci hanno preso le botte Ma poi erano dei ragazzini Erano più piccoli di noi Ah pure Erano tipo dei Sì non ragazzini Cioè ci avranno avuto Che ne so 3-4 anni in meno Probabilmente Però Sai A 17 anni Uno dei 14 anni Già la vedi più La differenza Fisica No Quando sei più piccolo Cresci più velocemente Poi dopo un certo punto L'hanno sfornato L'hanno lanciato Giù dei nicespugli E Io ho detto Poi rica Cioè Siete due esseri De merda Grazie Grazie a tutti i cinque mesi E BJ E BJ Ragnar Difficilissimo Il resto di tre mesi Happy 2020 Grazie caro Il prossimo è Bella Jesus Senti? Ciao data Ciao Come stai? Ti senti? Ti sento Ti sento Tu mi senti? Sì sì Ti sento Tutto bene tu? Tutto bene Vai Tutto tuo Allora Ti do un scenario Dimmi Praticamente Eravamo in gita scolastica Era tipo terza O seconda elementare Sì Quindi ti parlo del 2005 2006 più o meno E Praticamente eravamo In mezzo alle montagne Spero che nessun mio compagno Stia Stia ascoltando In questo momento Ok Non credo E Eravamo in mezzo alle montagne Sì Arriviamo lì Mangiamo Perché sai Quando arrivi Di solito in gita scolastica Vai A pranzare O a cenare Dipende quando arrivi Vabbè Pranziamo E facciamo questa benedetta escursione In cui io Mi spiace perché sta mangiando Ma mi cago proprio addosso E Perché non ce ne stavo Non mi uso a mangiare Ma non so che ci hanno dato da mangiare Non mi ricordo Ero piccolo Sì Vabbè mi cago totalmente addosso Ma proprio greve 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 E Al che Mi Mi isolo Totalmente E E sto praticamente Sempre 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 in coda A tutta la fila indiana Che facevamo Per questa escursione E La cosa divertente È che tornati Poi Alla A scuola Il giorno dopo Quando vabbè Quando siamo tornati La professoressa Che ci ha accompagnati Ha fatto Devo fare un annuncio Davanti a tutti Dice Devo Fare una nota Di merito A me A Francesco Perché è stato il più bravo Non ha fatto casino Ed è stato tranquillissimo E io lì E grazie al cazzo Ero a sociale Ero diventato Totalmente sociale E E niente Poi mi sono beccato Qualche voto in più All'interrogazione dopo Però scusa Ma la figura di merda Dove l'hai fatta? Perché gli altri Lo sapevano E sei ricagato addosso No Penso che Se ne siano accorti Poi in pullman Ma per gentilezza Non mi hanno detto niente Che carini Vabbè Mezza figura di merda Dai Mezza 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 Sì Per fortuna Va bene Bella Jesus Grazie caro Ciao 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 Beh ecco Visto che mi hai detto Sta cosa Praticamente C'è stava Questo ragazzo Spero che non mi stia guardando Praticamente Andarono in gita Io non Allora Io in meditamina Tra l'altro Non ho mai fatto Né una gita Era un'altra classe Me l'hanno raccontato Perché ogni volta Cioè Vi dico sta cosa C'ho questo mio amico Che è talmente coglione Che ogni anno Lo stesso giorno Per 5-6 anni Si fermava E diceva ragazzi A mezzanotte Alla mezzanotte Tra il giorno Prima E il giorno Che è successo Questo fatto Alla mezzanotte Ogni volta Diceva ragazzi Un minuto di silenzio Dice ma perché E raccontava Questa storia Un coglione Per 6 anni Ha fatto sta cazzata E mo vi spiego Cosa È successo Sono andato in gita E Non mi ricordo Dove cazzo Credo stesso Andassero andando Boh a Pompei Non lo so Beh i soliti di gire Quelle normi Che si fanno Con la scuola E praticamente C'era sto ragazzo Che era diventato Rossissimo E nessuno capiva Perché stava là Che faccia così E praticamente Aveva chiesto Di nascosto Alla professoressa Se si potessero Fermare A un autogrill Da qualche parte È soltanto È soltanto che È tipo Sai quando spassi Un autogrill Il prossimo È 38 km Cioè Gli l'ha detto Nel momento in cui L'aveva superato Prima di arrivare All'autogrill Successivo Lui stava così E alla fine Non ce l'ha fatta più E si è cagato addosso Davanti a tutti Ma di brutto C'è neanche poca Tanta merda Tantissimo E sto dopo di tutti Quanti scende Dal pullman E per tutto il viaggio È rimasta nel pullman La puzza E lui È rimasto Con sta cosa qua E sto coglione Del mio amico Ogni volta Ha ricordato Per 5-6 anni Quel momento Quel giorno Con un minuto Di silenzio E ogni volta Mi ripeteva Ma ti rendi conto Si è cagato addosso Ti rendi conto E mi dice Ho capito Ma poraccio Che cazzo Ma si è cagato addosso Eravamo tutti là 30 persone Così Me lo raccontava Sempre così Per 6 anni Grazie Inserviente Benvenuto No Non è Cioè Alla fine Quel ragazzo Poi la cosa Non so se Sicuramente Sarei rimasto traumatizzato Porello Io Non l'ho mai Cioè L'ho conosciuto Di vista Non ci ho mai avuto A che fa E sto mio amico È sempre stato un coglione Calseggione Non gli ha mai Non è mai stato Un bullo Mai Era anzi Era un buonaccione E ci scherzava Su ste cose Per buttarla Per sdramatizzare Però quando eravamo Tra di noi In privato La raccontava così Perché era uno stronzo Il prossimo è Lui Bella Giovanni Ti senti Aspetta Non ti sento Parla Ci siamo Vai 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 Tutto tuo Come va Ok Dai Muto la live Questa volta Dovrei averce la fatta Va bene bene Dai Dai È tutto tuo Ci siamo Vai vai Arrivo un po' Riccardo Allora Solo un attimo In difficoltà Perché anche io Ho una storia Suve essersi cagati addosso Però Se ne hai una diversa Sarebbe meglio No ma non è Non è pesantissima E più che altro Allora Mi trovavo All'elementari Avevo Sette anni Questa è stata Praticamente L'evento più traumatico Della mia vita È incredibile Che negli eventi traumatici Ci sono sempre Le elementari E Giovanità E merda E in pratica Sicuramente La sera prima Avrò mangiato Qualcosa di sbagliato Fatto sta Che non mi sento bene Chiedo alla maestra Di poter andare in bagno Sì E in pratica Ovviamente Con la solita fortuna Che ci si ritrova Nella vita La nostra classe Era quella più lontana Dal bagno E nonostante Mi metto a correre E faccio le cose di fretta Arrivo proprio Nei pressi del bagno E non riesco più A trattenerla E Diciamo che Riesco a farla per metà Nel bagno Il resto Finisce un po' Sui pantaloni Sul grembiule E mi sporco Chiaramente Esco dal bagno E mi rivolgo Al vidello E gli dico Mi dispiace Non l'ho fatto apposta E mi sono sporcato E questo qua Va bene Non ti preoccupare Adesso Sistemiamo la faccenda Questo Permettimi La parola forte Questo grandissimo Cornuto Arriva Arriva di Con la sensibilità Di una mia tritrebbia Spalanca la porta Della classe E urla Maestra Giovanni Si è cacato addosso Davanti a tutta Quanta la classe E quindi Niente Poi Da lì Il mio Il mio futuro È stato segnato Ovviamente Poi Diciamo Per i restanti anni Qualunque persona Scorreggiasse All'interno della classe La colpa Era la mia Che bastardi Ma L'hanno licenziato Sto testa di cazzo Del bidello Ma non stronzo Ti ha rovinato l'infanzia Cioè almeno I cinque anni Di elementari Praticamente sì Poi non è finita lì Perché poi La maestra Mi ha giustamente Ha giustamente Detto Vabbè dai Poverino Accompagna la casa Così si cambia E Sistema tutto Va bene Questo qui Praticamente Mi ha portato In processione Per Per le vie Della città Per fortuna Abitavo vicino Alla scuola Quindi Non è stata Diciamo Una 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 processione lunga Ecco diciamo così Quindi Almeno quello Cazzo Almeno era più vicino Alla casa del bagno Ecco Sì sì Sicuramente Va bene Ti ringrazio Giovanni Ciao caro Ti saluto Ciao Ciao Una Attenzione Una Una special guest Bella Olorin Ciao Diego Ciao chat Come stai? Tutto bene caro Come va? Tutto bene Tutto bene Vai Tutto tuo La settimana scorsa Avevi fatto sempre Questa bella Cosa Però Poi non ci sono riuscito Quindi Riproviamoci Vorrei un attimino Allontanare Dei discorsi di merda e vomito Così giusto per Ci sta Quelli più gravi Quelli più brutti Effettivamente Sì sì Per cambiare un pochettino Il tutto Sì Allora La mia storia Riguarda indirettamente Una ragazza Ok Indirettamente però Ovvero Io avevo 8 9 anni Quindi si parla del 99 2000 Circa Ed eravamo Ad un agriturismo Con tutti i colleghi E superiori Di mio padre Quindi Chiaramente Una situazione In cui Si presuppone Tu stia un attimo Tranquillo Per non far fare Brutta figura A tuo padre Sì C'era un piccolo problema Insomma Io da piccolino Per divertirmi Per sfogarmi E per apparire Lanciavo le cose Cioè mi divertivo Tantissimo A lanciare le cose In particolare Le pietre Io Non so perché Da piccolino Avevo proprio Questa passione Per me La massima aspirazione Era lanciare Lontano una pietra Sì 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 Però in quel caso C'era un piccolo problema Perché Nonostante ci fossero Altri ragazzi Con cui giocare Questi giochi Molto divertenti Da tipico 800 siciliano C'era Una ragazza C'era una ragazza Che io Tuttora Idealizzo Anche perché Non l'ho mai più rivista Aveva Forse un anno Più di me E dietro un sasso in faccia No Cercavo di impressionarla Che è anche peggio Sotto certi punti di vista Che è anche peggio Perché Perché inizio a lanciare le pietre A una velocità E ha una cadenza Incredibile Succede però una cosa Cosa succede Che è Un Stavo lanciando la pietra Verso un ragazzo Una pietra Abbastanza grande Verso un ragazzo E questo ragazzo Si sposta Giustamente Tu dirai Sì Peccato che dietro di lui C'era la macchina Di uno dei superiori Di mio padre E Scritta una cosa Sotto a contare Effettivamente E E Il fatto Il fatto cos'è Che Chiaramente Come puoi capire Essendo superiore Essendo Ricoprendo un ruolo Più D'importanza Aveva una macchina Anche di un certo calibro Lo sportello Era Completamente Ammaccato Cioè la pietra Aveva fatto un solco Di 5 cm All'interno Nello sportello Per far dire Bastante forte Ok Quindi Cos'è successo Dopo quel momento È successo che L'infame Di quel ragazzino È andato subito A chiamare i grandi Infamissimo Lui proprio Gli auguro Tante belle cose E Arrivano tutti quanti Arriva mio padre Arrivano i suoi superiori Arrivano Le urla Di mio padre Nei miei confronti Arrivano Le carezze Di mio padre Nei miei confronti Però 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 Sono comunque Sono comunque È a lieto fine La storia Perché Quella ragazzetta Ha riso Era felice E quel sorriso Sul volto Di quella ragazzetta Per me Ha reso tutto Più dolce Anche Le carezze Tra virgolette Di mio padre Questo Questo è quanto Non so se poi Sei venuto a scoprire Che quella ragazzetta Rideva perché stava Leggendo un messaggio Perché godeva Perché godeva Che mi stavano Sì Per altri motivi No no Perché ha riso Prima che arrivassero Gli adulti Quindi era comunque Era comunque Non l'ho più rivista Sfortunatamente Non l'ho più rivista Però Sono Ho comunque un bel ricordo E comunque un bel ricordo Legato a Quella ragazza La prima prima Credo la mia prima cotta Tra l'altro Og Assurdo Assurdo Ma hai dato Lo spunto per altri Sono contento Sono contento Diego Sono contento Grazie Allorin Vai Vi auguro a te Ha lasciato una buona serata Ciao ragazzi Allora Mo' vi sposto Mi sono venuto in mente Due Argomenti Per le prossime Avevo detto Avrei voluto fare Figure di merda E portarlo avanti In realtà sarebbe bello Cambiare perché Stanno tante La prima è Quella volta che rischiai Di morire Io ne ho Ne ho Almeno Cinque E Sono tante Secondo me Cinque volte Rischiate di morire Sono tante Ma seriamente Non Non Cazzate Seriamente Oppure La mia prima crash La mia prima crash Potrebbe essere caruccia Io l'alternerei con la volta che rischia di morire Secondo me Poi facciamo la mia prima crash Comunque Grazie Tugongo Grazie caro per i sei mesi Tugonghi Va bene Altre cose Altre figure di merda Io di figure di merda In realtà Ne ho fatte tante Però Non sono figure di merda Sono figure di merda Che ho Compreso a posteriori Perché Mo vi spiego Un conto Le figure di merda Che avete raccontato Per esempio Quelle di cagarsi addosso Di vomitare Un conto Le figure di merda Che poi ti rendi conto Che hai fatto A distanza di tempo Io mi ricordo Che al liceo Non avevo il coraggio Di andare Dalle ragazze A provarci E ci mandavo Dei delegati E non ho mai Realizzato il fatto Che fare questa cosa Comunque Avrebbe creato Un pensiero Nella testa Delle ragazze Perché giustamente Se poi loro sanno Che Tu Ci stai provando Con loro Gli piaci Dopo Loro ti vedranno Con occhi Differenti Io praticamente Mi ricordo Di aver delegato Alcune Ragazze Che non mi piacevano Con cui però Parlavo Per andare A dire A delle ragazze Che mi piacevano Che mi piacevano Che volevo Mettermi con loro Tra l'altro E Tipo Nella stessa classe L'ho fatto Con Quattro ragazze Non Pensando Minimamente Alla figura Di merda Che Avevo creato Capito Con quattro Ragazze Della mia classe Avevano avuto Questa specie Di delegato Di letterina Da parte mia E tutte A quattro Gli hanno detto A lei No Guarda Non sono Interessata Tutte A quattro E erano tutte A quattro In classe Con me E io Loro sapevano Che mi piace Io quando ci parlavo Non pensavo Che ce l'ho mandata Quindi capito Che ci ho provato Per me era tutto normale Però giustamente Non so Mi faceva strano Poi dopo ho ragionato Ho detto Che coglione Ma che cazzo faccio Era meglio Farlo Beh si vabbè Ti possono piacere I ragazzi della stessa classe Però era meglio Farlo magari Con ragazze L'ho fatto Anche con ragazze Di altre classi Tutte andate male Ovviamente Non ho mai avuto Il coraggio Di andare direttamente A parlare con loro E queste sono figure di me Da posteriori Il prossimo è Credo Lui Ciao Alfa Con la foto di Pietro Smusi Mi senti? Sì sì Ciao caro Come stai? Bene bene Grazie Dai è tutto tuo Io volevo Diciamo che Questa figura di merda Me l'ha Ricordata più o meno Allorin Con il suo racconto Dei sassi Quindi riguarda una ragazza? No Riguarda più I sassi e le macchine Aspetta Non sarei mica Uno di quelli Che lasciavi i sassi Dai cavalcavia? Non dai cavalcavia Però Quanti anni avevi? Penso Dieci È morto qualcuno? No Allora Ok Per fortuna Vabbè Vabbè è una figura di merda Poi non è una roba Sì sì Non è un omicidio Ok ok E Beh Ero Fuori dall'elementare Ok E Insomma Vicino alle mie elementari C'è un parco Sì C'è un parco che si estende Per tutta Per tutta al di fuori Dalla scuola elementare E Mi ricordo fermamente Che ero con questo mio amico Ok E a un certo punto Questo mio amico Mi chiama Mi chiama su una collinetta La collinetta più alta del parco Che si affaccia verso la strada E mi dice Dai Tiriamo i sassi E io Da bravo Coglione Che ero E che ancora sono Ti dico Sì Perché Mi sentivo audace Allora Saliamo sulla collinetta E cominciamo effettivamente A tirare i sassi Più grossi che troviamo Ovviamente Più grossi possibile Davanti a noi c'era il traffico Delle macchine Fino a quel momento lì Diciamo che il gioco Stava Anche nel Tirare A chi tirava i sassi Più lontano Fino a quel momento lì Non prendiamo nessuna macchina Ci va di culo A un certo punto Però Le macchine Si fermano al semaforo Io A una certa Tiro un sasso Uno di quelli potenti E prendo Esattamente La macchina Una macchina rossa Sullo sportello Ci sono stati Esattamente Trenta secondi Di silenzio E in quel momento Non c'erano i miei genitori Ero da solo Perché era Ero appena uscito Da scuola praticamente Trenta secondi di silenzio E poi La fuga Fino qui Tutto a posto Andiamo al giorno dopo Ok Il giorno dopo Vado a scuola Tutto tranquillo Torno a scuola Non succede nulla All'uscita di scuola Più o meno Verso le Saranno state Penso Il pomeriggio Le quindici Perché di solito All'alimentare Si esce sempre Il pomeriggio Io scendo Tranquillamente E Mi arriva incontro Un mio compagno di classe E mi fa Alessio Guarda Ci sono dei signori Che vogliono te Dico Ma chi sono? Che cosa vogliono? Mi conta che avevo dieci anni Quindi boh Cioè Mi sono cagato in mano Ok Vado Voglio tornare a casa E mi avvio Per la strada Verso casa Sperando che mi lasciano stare Però loro continuano A seguirmi E continuano a chiedermi Ma guarda che devi fare qualcosa Bisogna chiamare i tuoi genitori Dobbiamo sentire i tuoi genitori Cioè Questi qui mi sono venuti A trovare a scuola Praticamente Madonna Cioè si sono piazzati fuori Dall'uscita di scuola Come degli investigatori privati Manco mi volessero Mandare una pusta Con proiettile E Fatto sta che Dopo un po' Arrivano i miei genitori Perché mi stavano venendo A prendere E fanno Ah Scusate Ma che cosa ci fate Con il nostro figlio Che cosa gli volete fare Perché siete qui E loro Ah no Tuo figlio Ai miei genitori Ovviamente questo Non era stato detto Ha tirato un sasso A nostra macchina Lì ovviamente sbianco Perché i miei genitori Lo scoprono Ma lì per lì Non fanno una scenata E dicono Sentite Voi per adesso Ve ne andate Perché Non è che vi mettete A cercare il nostro figlio A scuola E da lì in poi Sostanzialmente è stata questa La figura di merda Cioè Più che figura di merda È stato un evento traumatizzante Ma te l'hanno ha carezzato Poi i tuoi? Non ricordo bene Ma evidentemente Perché ho perso la memoria Dopo che mi hanno ha carezzato L'hanno fatto mangiare i sassi Proprio a colazione Sì Forse hanno scastrato il sasto Dallo sportello della macchina Del tizio che gli ha fatto pagare E poi L'hanno usato per picchiarmi E forse è per questo Quello ricordo bene Magari adesso guardo Sullo scaffale Perfetto Perfetto Va bene E vedo se c'è ancora Come ci meglio Fantastici 4 Odiati per tutta la vita Dopo quella cosa No Sono un fan Anche Marvel Stranamente sarà Va bene Va bene Sarà contento tizio qualunque Dai Bella Ciao 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 Comunque ragazzi Cioè state tutti sul pezzo Siete tutti quanti Tranquillissimi Tutti pimpanti poi Raccontate le storie A tremila Cioè Che spettacolo Sta cosa Grazie Siete bellissimi E fantastici E Altre figure di merda Altre figure di merda Non mi vengono in mente Bella Oxided Come stai? Perfetto Era entrato Ed è uscito Bella Numercas Che dici? Bella Bella Sei ripreso? Ti 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 Dai Dai Vai Tutto tuo Allora Tutte e tre Le storie che sto per raccontarti No Una Una Raccontane una Di quelle delle tre Sono molto veloci Però Ah ok Vai Va bene Sono veloci Comunque Diciamo Tutte e tre hanno un punto in comune Ti sposto dopo Oxided Ero ubriaco Allora Ok Alla prima Ero in un pub Eccetera eccetera Niente Il mio cervello dice Devo pisciare Ok Non c'ho voglia di andare in bagno Va bene Vado fuori In un angolino Torno dai miei amici E faccio Ho fatto Avevo Le scarpe E i pantaloni Totalmente pisciati E questa è la prima È la prima Va bene Poi Oh mia la festa di te Fai pensato subito Poi La seconda Io Nel Diciamo nel mio gruppo C'ho Un Un amico Che è sordo Ok Ok Io sempre ubriaco E Lo dovevo chiamare Tre Quattro Cinque volte Sei volte A questo punto Siccome Stavo anche cominciando Ad alzare La voce Uno Dei miei amici Mi fa Ah sì Ti ricordo che Ubriaco Ti ricordo che È sordo Io tipo Cazzo Ci sono rimasto di merda Ci sono andato da vicino L'ho fatto Ho attirato la mia L'attenzione Ok Ok La terza invece È quella che Volevo raccontare Diciamo Quando sono sceso in stanza Perfetto Allora Era un viaggio Con i miei amici Eravamo in tre E siamo andati In Perugia Ok In Perugia A Perugia No perché in Perugia No no E niente Praticamente Una sera di questa Abbiamo deciso Va bene dai Andiamo a questa serata In discoteca E Già Con Tre drink Abbastanza forti Ero un po' Sulle nuvole Allorché Io decido Vabbè Mi allontano un attimo Mi giro un po' Il posto Vedo se conosco Anche qualcuno Che comunque Sono ubriaco Sono più associato Eccetera C'è mai stata una volta In cui non eri ubriaco? No Perfetto Ok Ehm Ma Mentre vado Il mio cervello Non totalmente Diciamo Sobrio Vede un bicchiere In questo dito Ti dico Che faccio? Non lo bevo Ah pensavo C'è Avessi pisciato dentro No 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 Ok Ehm Niente Mi bevo questo bicchiere Erano tipo L'una E mezzo Forse Ok Mi Ritrovo Ehm Tipo Con un timeskip Di Tre ore Ehm In prima fila Dove c'era tipo Una band In questa C'era tipo Il DJ set Con una band Sì 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 Ehm C'era una folla Allucinante Io non so come Mi sono ritrovato In prima fila Dopo aver bevuto Quel drink Sì Ehm In prima fila Sotto il palco Praticamente Ehm Tipo C'erano le transenne Cose Ehm Lì a ballare Praticamente Circondato da persone E Prendo il cellulare Vedo che sono passate appunto Queste tre ore Di cui Boh Non ricordo Niente Con Tipo Otto chiamate Mi faccio strada Ehm Fino all'uscita E c'erano Due miei amici Ehm La ex Di uno di questi miei amici E La sorella Della ex Di uno di questi miei amici Che mi Che aspettavano Tipo Vicino alla macchina Anche abbastanza Preoccupati Mi faccio Eccomi Mi sono messo in macchina E sono praticamente Svenuto In macchina E la figura di merda Qual è? Il fatto che Mi stavano aspettando Probabilmente Da due ore e mezzo E poi ovviamente Quando siamo scesi Non ho capito Ehm Il fatto che Anche che tipo Poi c'è stato Diciamo Il ritorno In camera Nel B&B E' stato Proprio tranquillo No ma Più che altro Il drink Ma che cazzo Bevi il drink L'hanno drogato Per davvero Eh Volevo fare Un'esperienza Madonna Tu sei matto Sei matto In tutti i sensi Senti Fatto sta che poi Quando siamo tornati In stanza Per tutto il tragetto Abbiamo soltanto Urlato Va bene Fine Ok Vabbè Quanti anni avevi? Ehm Ne avevo Tipo 17 Cominciato bene? Sì Va bene Numercas Grazie caro Bella 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 Buona serata Ciao 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 Grazie Aaron Jackie Grazie per il Prime Benvenuto caro Grazie Aaron Benvenuto Sto ringraziando un po' Il ritardo ragazzi Perché sono preso da Manca poco cazzo Manca un minuto Facciamo 18 per Twitch? Sì Meglio Sposto l'ultima persona Barricade Mi dispiace per gli altri Ragazzi Bella Barricade Come stai? Eccoci Eccoci Buonasera Eccoci qui Buonasera Allora A parte il fatto Allora Stanza bene comunque Dada Vai 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 Racconta tutto Racconta tutto Allora A parte il fatto che potrei avere una compilation di figura di merda Perché potrei stare qui da qui fino a domani a parlare di figura di merda Ma Questa è quella che ricordo meglio E soprattutto perché ero sobrio E La cosa più eclatante È il momento in cui dovevi farti i cazzi tuoi E ma parli lo stesso E fai la figura di merda Sempre in ufficio Dove lavoro Si Parla con i clienti Giustamente Il più e del meno E a un certo punto Questa cliente Reciva una chiamata Questa chiamata diceva Eh il bambino nasce tra poco Quindi Non sono un problema Quindi Sto bene Sto bene Sto bene Sto bene Ma parlava in prima persona Si Io Molto innocente Io ho detto lì Ero lì Lo vedevo La vedevo Ci ho cominciato a parlare Ed era bella in carne Quindi era Proprio bella Incinta Sembrava Sembrava Ecco E allora gli ho detto Bene Come sta il tuo Quanti A quanti mesi hai Quanti mesi stai Di gravidanza Ma io non sono incinta Io non sono incinta Questa penso sia Questa penso sia La madre delle figure di merda Cioè perché Io ad un certo punto Mi ho riguardato Perché io pensavo Che fosse davvero incinta Perché Era Invece Era soltanto E poi Che succede Sta squadrato Sta sciolto Ma squadrato È rimasta freddissima Rimasta freddissima E sono detto Va bene Ho rivisciuto una chiamata Che non era vero Manco se calava Gesù E poi dopo Ho aspettato Che se era andata Ma quindi Chi era incinta Sono andato Alla mia collega Ma chi era incinta Lei o sua figlia Era sua figlia Che era incinta Di nove mesi Vabbè E con questo Praticamente Ho fatto la Maggior figura di merda Che è stato Mananco Cinque anni fa Va bene Grazie Barricade Grazie Bella Bella a tutti Ciao ciao Bella 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 Sono sbagliato L'ultimo non è Barricade È Flame Perché poi Toccava a lui E era crashato Adesso c'è Flame Bella Flame Ci sei? È il tuo momento Puoi parlare Vai Flame Ma ti ho fatto Anche rientrare Imposta il microfono Ti prego Cambiali Cambiali tutti Nelle impostazioni Oppure dai consenti A Cromer A Firefox Consenti Consenti il microfono In alto sulla barra Se sei da Provisor Non ti sento Flame Grazie NPA Grazie per i 5 sub Grazie caro No non è Mr. Flame Ragazzi È Excited Flame Non ce la facciamo Io non ti sento Tu mi senti? Ma questa qua Non la dicevo Da un po' Era da un po' Che non la dicevo Niente Io non ti sento Flame Devi cambiare i microfoni Finché non trovi Quello giusto Se sei da Browser Da dove cazzo sei? Sei da Browser? Oggi comunque Non c'è stata Nemmeno una ragazza A raccontare Una sua esperienza Tutti uomini Le figure di merda Le donne Non le fanno? Perché? Tra l'altro Sta aumentando La community Femminile Nel canale Sono contento Perché le ragazze Non fanno figure di merda? Da telefono sei? Da telefono Devi staccare le cuffie Se ci riesci Stacca le cuffie Abbiamo solo vergogna Di dirlo Ma qual è il problema? Dai Una ragazza Una sola Ciao Giorgia Lollonica Sei una ragazza Vieni Non me ne ricordo Una E comunque Considerando Considerando Quanto sono Assioso Evito di farle Ok Eh Federica Ne voleva raccontare Tantissime Dice Sono sempre stato Nella tua community Ma per me Zero rispetto Che vuol dire? Ho detto Stanno aumentando Non ho detto Che non ci sono A me Non ne vengono Di figure di merda Niente adesso Dice Francesca Io ne ho una bella Se volete Ve la passo Come me la Come ce la passi? Flame non si sente Purtroppo Niente Saltata Flame Mi dispiace Segg Ma vaffanculo Lollonica No ragazzi In realtà Il tempo È finito Volevo Semplicemente Far Raccontare Una storia Anche Ad una Ragazza Se mi fate Decisere Eh Nadili Come facciamo? Dovresti entrare Nel Discord Dovresti entrare Nella stanza E ti sposto io Per i ragazzi Che sono Nella chat Sopra In talk Mi dispiace ragazzi Abbiamo finito Il nostro tempo Sì Povaghella È andata bene Grazie Facciamo così La rinviamo La prossima settimana Il prossimo martedì Perché questo talk Ci sarà Ogni martedì Facciamo dalle 7 Dalle 7 Alle 21 Facciamo due ore Tanto ce ne siete in tanti E ci sono tante cose Da raccontare Facciamo dalle 7 Alle 21 Ok Il prossimo argomento La prossima volta Sarà Quella volta che rischiai di morire Quella volta che rischiai di morire Ragazzi Va bene Invece Per quanto riguarda Domani Domani Hollow Knight Cerchiamo di fare anche l'altro finale E di fare i boss più belli Perché comunque è piacevole fare i boss su Hollow Knight È proprio quello Una delle cose più belle È anche quella La sfida Magari mi fate vedere anche questo Path of God Come cazzo si chiama Path of Pain Così provarlo E poi reaction Perché oggi non abbiamo fatte le reaction Va bene Io vi ringrazio per la compagnia Vi ringrazio per gli abbonamenti Ci siete stati tantissimi anche oggi Vi ringrazio per la vostra presenza nel talk Mi dispiace per chi non ce l'ha fatta ad entrare E siete stati tutti quanti belli pimpanti Sul pezzo Siete bellissimi Siete bellissimi